Quando vi dico che la decisione di abolire completamente i motori endotermici dopo il 2035 non è una cosa saggia, non lo dico perché ce l'ho a morte con le auto elettriche, ma solo perché la tecnologia, se lasciata libera di esprimersi, può portare anche a soluzioni alternative valide. E ora vi dico il perché. Benvenuti in questa nuova riflessione motoristica, rubrica che porto i giovedì sul canale e nella quale vi dico la mia. Un punto di vista strettamente personale su questioni legate all'automobilismo. E oggi voglio parlarvi di un'auto, una soluzione che, adeguatamente sviluppata, potrebbe permettere di non doversi per forza assoggettare ad un'unica alternativa, ma di avere una scelta più ampia che permetta a tutti e in tutte le condizioni di non dover rinunciare alla mobilità personale. Sto parlando della Nissan Qashqai e-Power. Vi rubo solo un attimo prima di iniziare, per chiedervi di rimanere fino alla fine, perché c'è una riflessione nella riflessione, che non c'entra con questo discorso ma è molto inerente a questo video specifico, quindi grazie. Allora, dicevamo, Nissan Qashqai e-Power, un'auto mossa da un motore elettrico, alimentato però da un piccolo motore termico, che non ha bisogno di collegarsi alla corrente per essere ricaricata, con emissioni nell'ambiente di inquinanti decisamente basse. Molti si sono chiesti perché nessuno avesse pensato ad una soluzione simile, oltretutto nel mondo navale è la propulsione che va per la maggiore. Tecnicamente nulla di nuovo è impossibile quindi e che potrebbe unire questi due mondi, quello della mobilità elettrica pura e quella del ibrido in maniera meno dolorosa e soprattutto più sopportabile per molti automobilisti che magari sono preoccupati per le difficoltà che potrebbero incontrare con le ricariche di una batteria. Adesso non stiamo parlando di un miracolo, non è che Nissan abbia scoperto chissà cosa e non è che abbia fatto l'auto perfetta tutt'altro, ma è il segno che si possono trovare soluzioni alternative se non blocchi il mercato. Se non lasci che sia la tecnologia, l'inventiva umana, il mercato a dettare le regole, ma le imponi senza se e senza ma, non permetti poi tutto questo e magari non permetti di trovare anche soluzioni migliori a quelle che invece stai imponendo. Prendiamo quest'auto per esempio, i consumi sono minori dell'omologa ibrida in listino, così come le emissioni nocive e il prezzo è di poco più alto, nulla che un comune cittadino non possa sopportare, soprattutto se trasliamo il tutto ad auto più piccole ed economiche magari. Se dai alle case costruttrici la possibilità di investire in progetti simili, potremmo ritrovarci tra 4-5 anni con auto del genere altamente più efficienti e molto meno inquinanti, senza distruggere nulla, soprattutto se poi si punta sui carburanti sintetici per esempio, che inquineranno ancora meno. Vedete, se fai funzionare un motore con un carico praticamente prestabilito, sai già a che regimi lavorerà, sai già quale sarà la condizione peggiore che dovrà sopportare e quindi diventa tutto più semplice, molto più semplice, questo al momento è solo un motore classico adattato a questa funzione, ma potrebbero nascere motori appositi, ancora più performanti, meno inquinanti, tanto non hanno bisogno di chissà quale archibugio meccanico per essere più spinti. Conosce a perfezione i regimi in cui lavorano e puoi renderli più leggeri, più piccoli, meno incasinati di come sono adesso, abbattendo le sostanze nocive in maniera vertiginosa. Non avrai il problema di una produzione di massa di batterie e il loro futuro smaltimento, visto che si tratta poi di piccole unità solo a supporto del motore elettrico, non hanno bisogno di chissà quale capienza. Invece no. In quanti pensate che investiranno in modo massiccio su una tecnologia del genere? Si limiteranno solo a mettere i motori già esistenti, di cui i loro magazzini sono pieni, senza spenderci tanti soldi in ricerca e sviluppo, tanto tra 13 anni non serviranno più. E questo ne fermerà il reale sviluppo futuro? Ne vedremo altre con questa soluzione? Probabilmente sì, se il mercatore agirà in maniera positiva tutti ne avranno almeno una in listino, ma come detto solo per non perdere questo treno, è sempre e solo fino al 2035. Una soluzione del genere poi potrebbe andare bene per tutti i mercati mondiali, non come adesso. Le auto elettriche non è che stiano vendendo alla grande in tutto il mondo, anzi sono ancora di nicchia. Auto del genere invece, visto anche il costo non troppo eccessivo, potrebbero essere interessanti per tutti, dagli Stati Uniti alla Cina, dall'India all'Africa, abbassando davvero le sostanze inquinanti in tutto il pianeta e non solo qui da noi. E' questo che mi fa rabbia di tutta questa situazione, il fatto che si sia deciso a priori che la tecnologia valida sia solo una, senza alternative, ma non è così e non lo sarebbe stato neanche se Nissan non se ne usciva con questa auto. Lo era e basta e adesso ancora di più. E' l'auto da comprare quindi? Questo non lo so. Come vi dicevo questa è solo una riflessione legata alla motorizzazione di cui è dotata. Se sia un'auto valida lo sapremo solo con il tempo e con i chilometri percorsi. Ripeto, non è una rivoluzione, difatti è la scoperta dell'acqua calda, ma è sicuramente una valida alternativa, tutto sommato a buon mercato. E lo è in modo trasversale, non solo per il prezzo d'acquisto, ma anche perché permette a chi non ha modo di ricaricare un'auto elettrica di muoversi inquinando meno ed in tutta serenità. Devo essere sincero, quando ho letto di quest'auto e ho visto qualche video in rete, ho storto un po' il muso. Pensavo che fosse una vaccata, ma poi ci ho ragionato su. Ho fatto il più e il meno e non mi sono lasciato prendere dalle prime impressioni, che sinceramente non erano state positive. Ma poi ho pensato ai risvolti, alle possibilità future di una tecnologia del genere. E mi sono ricreduto. Ripeto, non è l'auto in sé, è la tecnologia che potrebbe portarsi dietro, è la scintilla che potrebbe innescare un susseguirsi di buone idee. Che dire quindi? Brava Nissan. Concludo. I puristi di una e dell'altra parte non vedranno tutto questo perché chi vuole solo i motori termici la odierà, come chi vuole solo i motori elettrici. E ho visto delle prove in cui veniva denigrata perché non era né una e né l'altra, non cogliendo il significato di un'auto del genere. In fondo potrebbe essere davvero l'elettrica per tutti. Invece no, distorcono il naso e quasi prendono in giro questa tecnologia. E non lo fanno apertamente solo perché sono stati invitati a provarla e magari non vogliono far arrabbiare nessuno. Ma si vede chiaramente che quello che dicono non è tutta la verità. Tergiversano e dicono tutti che ne parleranno dopo una prova più approfondita. Giustamente dico io, ma i preconcetti sono palesemente visibili in quello che dicono. Se ci comportiamo in questo modo, se mettiamo i paraocchi e non guardiamo fino in fondo, le cose non faremo altro che fare il loro gioco. Tanto noi non valiamo nulla. E se ci dividiamo? Se ci diamo uno contro l'altro? Per loro sarà solo un vantaggio. Dividi e ti impera. Non vi dice nulla? Quindi non fermiamoci solo al primo aspetto di quello che ci viene presentato davanti. Cerchiamo di approfondirlo meglio. Cerchiamo di vedere tutte le possibilità prima di sparare a zero. Stavo sbagliando in questo quando ho iniziato a scrivere questo video. L'intenzione era completamente diversa, ma poi man mano che scrivevo mi rendevo conto che stavo sbagliando e che era importante approfondire un po' più questo discorso, almeno da parte mia, per non fissarmi solo su una direzione, ma cercare di vedere meglio quello che avevo di fronte. Ripeto, non è l'auto dei miracoli, è solo una tecnologia che potrebbe aiutarci davvero per portarci a questa transizione, verso questa transizione all'elettrico in maniera più dolce, più soft e sicuramente alla portata di molti, anzi direi praticamente di tutti. Bene, basta penso di non dover aggiungere nient'altro. Spero che abbiate capito il mio punto di vista, o meglio, spero di essermi espresso in un modo chiaro da far capire quello che intendo. Fatemi sapere nei commenti come la pensate e se il video vi è piaciuto un like è sempre ben gradito, così come un clic sul pulsante di iscrizione. Basta dai, vi rimando al prossimo video, non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi per essere arrivati fin qui. Ciao ciao!